Hola a todos, eccoci qua, torna Time's Up per prima cosa mi devo scusare con tutte e tutti voi per la qualità pessima del video di settimana scorsa oggi vi parlerò dell'esordio stagionale della nazionale under 20 maschile di rugby allenata da Massimo Brunello infatti ha giocato ieri allo stadio Furiani di Bastiat contro la Francia solo per i finali, la partita è finita 25-24 per la selezione francese un risultato beffa, però come si è sviluppato lo racconterò dopo prima due cose, due storie interessanti attorno al luogo lo stadio Furiani normalmente ospita le gesta della squadra di calcio del Bastiat ma è stato luogo anche di due eventi, uno molto bello e uno molto brutto quello molto bello e molto particolare è il fatto che ha ospitato una finale di Coppa UEFA per la precisione la finale d'andata dell'edizio del 1978 in cui il Bastiat, la squadra locale, con una cavalcata apparentemente improbabile ma incredibile è arrivata sino all'ultimo atto di questo torneo la finale si disputò contro il PSV en Doven l'andata venne giocata al Furiani, 0-0 e il ritorno in Olanda, una vittoria per 3-0 poi regalò quell'edizione del torneo alla squadra olandese il secondo episodio, quello brutto purtroppo è la tragedia del Furiani che si può definire l'Eisel francese l'episodio risale al 5 maggio del 92 era la sede finale di Coppa di Francia il Bastiat affronta l'Olympique Marseille o l'Olympique Marseille straordinario composto da grandissimi campioni come Pappen o Chris Waddell ed è una squadra che sia l'anno prima sia l'anno dopo è arrivata alla finale della Coppa Campioni o Champions League e quindi per il Bastiat era una partita di grandissimo significato la società volle sfruttare comunque il ritorno di immagini di quella sfida chiedendo e ottenendo la costruzione di una tribuna supplementare temporanea il problema è che l'afflusso enorme dei tifosi locali non era in grado di sostenere l'eccezionale pubblico e quindi poco prima della partita ci fu un cedimento strutturale e il bilancio è tragico morirono 18 tifosi del Bastiat e i feriti furono 2500 da allora la tifoseria del Bastiat chiede che il 5 maggio non si giochi questa cosa ha scatenato e continua a scatenare molte polemiche e soltanto qualche tempo fa la federazione francese ha rimediato una targa a Parigi in memoria delle vittime di quel disastro la cosa buona è che dopo quella tragedia si decise di ristrutturare lo stadio Furiani quindi c'è stata una prima ristrutturazione dal 94 al 97 e poi una seconda ristrutturazione nel 2010 che ha portato il Furiani ad essere lo stadio attuale non grandissimo ma comunque attrezzato per delle partite di calcio moderne ora andiamo alla partita prima cosa la Francia era una Francia sperimentale era una Francia B, una Francia C che Francia era? era una Francia composta per la maggior parte da Espoir da giocatori del campionato Espoir dai migliori giocatori del campionato Espoir io vi ricordo intanto che in Francia il campionato Espoir sta continuando ovviamente magari con delle pause in base a positiva all'interno delle squadre però si gioca e questo comunque garantisce ai ragazzi un certo tipo di livello prestazionale cosa che per esempio magari manca ai nostri la maggior parte dei giocatori della nostra Nazionander 20 sono composti da giocatori dell'Accademia e io vi ricordo che il campionato di Serie A è fermo quindi bisogna partire anche da questo gap per quanto ovviamente i ragazzi dell'Accademia continuano ad allenarsi e ci sono i ritiri da parte di Brunello e del suo staff all'interno della Nazionale Francese però ci sono dei giocatori interessanti per esempio la Mediana il Mediano di Mischia i Delejean i Gelidane scusate sta giocando anche con profitto al Toulousain ha giocato parecchie partite comunque si sta facendo notare e mentre invece il Mediano d'Apertura Menores sta facendo delle ottime cose a Nevers in Pro de Deux è il titolare della squadra e si sta segnalando come uno dei giocatori più interessanti della seconda serie francese ma non è l'unico per esempio c'è un'ala Rebier che si alterna tra gli Espoir e la squadra titolare dell'Orione che al momento è terza nel campionato di seconda serie francese e quando ha giocato con la prima squadra ha fatto vedere dei colpi importanti dimostrando comunque di essere un giocatore molto veloce e molto elettrico nevrile quindi un'ala non grandissima fisicamente ma di tecnica e di esplosività quindi comunque una Francia con delle individualità importanti anche l'Italia le aveva per esempio comunque Riccardo Favretto classe 2001 ragazzo che si è fatto già notare da Permit Player con la maglia di Treviso o anche Malfredi Albanese il capitano di questa squadra mediano di Mischia Scuola Lazio che già due anni fa aveva esordito con la maglia biancola celeste e adesso si alterna con il semenzato nella maglia numero 9 del Rugby Calvisano quindi comunque entrambe le squadre con delle individualità già strutturate verso il Rugby Senores e invece delle individualità che stanno crescendo e si stanno completando il loro percorso di formazione c'è da dire anche che l'Italia è la prima partita ufficiale del nuovo tecnico infatti Brunello dopo l'esperienza a Calvisano è tornato all'Ander 20 prendendo il posto di Fabio Roselli e Andrea Moretti che sono andati a fare gli assistant coach di Michael Bradley però anche con buoni risultati visto che comunque le Zebre stanno facendo la loro onesta stagione che partita è stata? Intanto è stata una partita equilibrata in alcuni aspetti del gioco per esempio la mischia ordinata dove l'Italia ha cercato anche di mettere pressione nella squadra francese ma la Francia se l'è cavata bene e viceversa è stato bello secondo me anche l'uso del piede ragionato cercato sia per la conquista del territorio sia per il possesso comunque non solo per liberare il pallone quindi comunque tante opzioni tante scelte e questo è interessante la Francia ha cercato di giocare molto sul punto d'incontro grande aggressività sul punto d'incontro cercando di forzare molto quella situazione di gioco bene secondo me anche dal punto di vista dell'occupazione in attacco quindi con capacità anche di trovare più linee più opzioni di gioco sfruttare anche magari seconde ondate anche sul gioco rotto la Francia ha avuto alcune cose interessanti e comunque in generale si è vista comunque una squadra già un pochino più strutturata rispetto alle tara per le motivazioni che dicevo prima anche l'Italia secondo me ha fatto vedere dei principi di struttura ben impostati prima di tutto dal punto di vista difensivo bene sui placcaggi in generale comunque all'inizio di alcune situazioni la struttura c'era e si è visto anche nel convulso finale di gara ma ci stiamo arrivando una bella battaglia scusate ma ho anche degli appunti quindi ogni tanto devo guardarli è stata secondo me una bella battaglia anche in touche l'Italia l'ho vista bene anche sui drive sulla capacità anche di difendere le mall francesi ottime touche per esempio magari sugli ultimi blocchi lanci lunghi da parte del talonatore ben eseguiti quindi su quelle situazioni bene l'Italia un pochino meno su altre dove la Francia è riuscita a metterti comunque pressione in difficoltà interessante questa è l'unica nota che dirò per quanto riguarda l'individualità notare le duali titolari Gesi e Vaccari che sono state molto brave per esempio sulle prese aeree e questo ha garantito possesso ha garantito anche in priorità Vaccari in una circostanza scusate Gesi in una circostanza nel primo tempo è riuscito anche a prendere un buon pallone aereo in attacco che ha garantito anche una bella azione l'Italia fino a 5 minuti dalla fine era in vantaggio di 9 punti 15-24 cosa è successo? ci sono stati degli errori individuali dell'ingenuità che ci stanno dal punto di vista della struttura non è stato un gigantesco calo fisico comunque un minimo è calata l'Italia e ci sta anche questo per il motivo per cui abbiamo detto prima ma comunque l'Italia ha tenuto bene il campo il drop finale di Retier non è stata la prima scelta francese nell'ultima disperata azione la Francia ha cercato tante cose ha trovato un'Italia che si è difesa a coordine per lunghi tratti poi nell'unico momento in cui è riuscito a aprire il pallone a sfondare dopo un lungo lavoro di regolamento ha trovato lo spazio e lì Retier è stato molto bravo ad avere l'intuizione del drop e a metterlo dentro tra l'altro Retier non è notare che ha fatto poco prima la trasformazione in drop tra l'altro una trasformazione non proprio semplice quindi è evidente che il giocatore ce l'ha come gesto tecnico l'esecuzione del drop e quindi anche onore e merito a Retier qual è il bilancio? il bilancio è che comunque sia l'Italia ha giocato una buonissima gara ha delle attenuanti dalla sua parte però le attenuanti non sono ok va bene tutto comunque hai perso ma questo sono convinto di una cosa quando perdi è più tutto chi va in campo che se la sente male e quindi ci sarà comunque un percorso di crescita di costruzione del lavoro e da quello si ripartirà quindi quello che è da vedere magari anche se si riuscirà a giocare i 6 nazionali e 20 è capire i progressi che farà questa nazionale e i progressi che faranno i singoli giocatori quindi quello che si è visto è buono c'è un percorso bisogna vedere dove andrà e secondo me potrà farci vedere anche dei giocatori e anche delle cose dal punto di vista dell'organizzazione del gioco interessanti e allo stesso modo anche la Francia che ha vinto ma alcune cose da sistemare e quindi comunque vedremo del lavoro e anche alcuni di questi giocatori secondo me nel giro di qualche anno diventeranno comunque giocatori di livello anche nelle nazioni maggiori concludo con una piccola nota verso la fine del primo tempo l'Italia ha avuto un caccio di punizione a favore dentro i 22 francesi da posizione relativamente centrale la logica quale sarebbe stata quella di piazzare dalla tribuna è partita la richiesta di andare in touche a parte che in generale l'Italia è quasi sempre andata in touche forse anche per provare soluzioni e quant'altro però io sul momento ho detto ma perché è centrale piazza l'Italia è andata in touche ha vinto la touche ha organizzato un ottimo drive ed è andata in meta cosa voglio dire che le scelte giuste o sbagliate che siano sono sempre legate al campo e quindi quando comunque guardiamo le cose ricordiamoci questo perché comunque da fuori è sempre molto facile giudicare e come si può dire avere la scienza infusa e la soluzione comoda poi le cose vanno sempre viste in campo e c'è sempre l'avversario e l'avversario davanti a te io concludo qua vi ringrazio e ci vediamo settimana prossima